Grazie. Indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo ovviamente ora le determinazioni del Presidente della Repubblica che ringraziamo per il suo Magistero in un momento così particolare della storia della Nazione e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.